amici di fano tv buonasera e ben trovati in questo approfondimento in studio ci occuperemo di uno degli eventi che accende ogni estate fanese il palio delle contrade siamo qui con il presidente della pandolfaccia fabio frattesi benvenuto grazie dell'invito grazie grazie a tutti sì ci siamo stiamo anche quest'anno ripartiamo con il palio delle contrade è arrivato all'ottava edizione siamo arrivati e lo diciamo solo all'inizio non è un periodo facile per tutto quello che già sappiamo però uno per dare un incentivo a tutti gli artisti tutti quelli del settore della cultura e dello spettacolo che comunque in questo anno hanno assistito a un calo ea un'attesa di poter rimettersi in piazza e anche tutto l'ambito della cultura perché come gruppo storico ci riteniamo comunque un promotore di quello che è la storia medievale fanese quindi questo è il nostro compito ci siamo in questi periodi di chiusura messi in gioco per non rassegnarci e trovare un modo per portare comunque qualcosa alla nostra città che possa ricordare questo periodo importante allora lo scorso anno nonostante tutto insomma diciamo che è stato l'anno un pochino più particolare ora si respira voglia di nuovo di ricominciare dicevo lo scorso anno 35 anni di attività insomma festeggiati e celebrati in una maniera esemplare e nella stessa maniera si ripresenta quest'anno il paglio delle contrade con queste serate medioevali il 17 18 luglio in un contesto nuovo sì abbiamo abituato i fanesi a cambiare possiamo raccontare a cambiare location in diversi anni siamo partiti dalla pinetta di ponte metauro per per tanti tempi per due anni siamo stati a ora camata estiana finalmente torniamo proprio al centro della città doveva essere il progetto per il 2020 ma la pandemia non ce l'ha permesso e quindi il paglio dei contradi come vedete anche dietro di noi si sposta in piazza 20 settembre all'interno della corte malatestiana sì lo scorso anno abbiamo festeggiato 35 anni penso che siamo l'associazione di rievocazione storica più longeva della città di fano e quindi questo l'abbiamo anche scritto nel libro che abbiamo pubblicato e che quindi anche nei giorni della festa si potrà del palio si potrà trovare 8 anni fa abbiamo avuto quest'idea ma pazza perché ogni idea pazza di voler mettere in gioco le contradi di voler mettere in gioco tutto quello che era la nostra storia medievale e di portarla alla città quest'anno ripartiamo con questo nuovo progetto che speriamo che diventi il punto di partenza per il futuro un futuro come dire lo sogniamo ancora più grande noi ci lavoriamo e ci lavoriamo tanto allora una delle caratteristiche della pandolfaccia è proprio l'inclusione no fare queste attività in cui vengono coinvolti tutti quanti e questo è un bel segnale di ripartenza e di voglia di ricominciare perché non ci sarà comunque la sfida tra i quartieri però le contrade verranno in qualche maniera coinvolte e quindi queste due serate medievali avranno ragion d'essere anche in una maniera folcloristica colorata divertente ed entusiasmante insomma vediamo che cosa succederà in questi due giorni si hai detto bene hai detto anche una parola che magari delle volte viene utilizzata anche in maniera disprezzativa in verità è un complimento la parola folcloristica nel senso che la nostra associazione ha sempre declinato la cultura la rievocazione e la passione per lo spettacolo e il folklore cioè l'identità e anche l'identità e la popolarità di quello che viene fatto io penso e questo l'abbiamo sempre creduto anche noi come associazione che se non si è capace di raccontare se non si è capace di tradurre quello che un libro di storia in un qualcosa che si può vedere e sperimentare rimane praticamente qualcosa soltanto riservato per pochi invece è la nostra associazione vuol fare proprio la tramite tra quello che è la nostra storia e lo spettacolo cosa porteremo in piazza cosa porteremo in scena questi giorni sia 17 e 18 faremo un angolo rievocativo all'interno della corte malatestiana quindi le persone potranno entrare all'interno della corte malatestiana che per questi due giorni sarà animato e quindi sarà si potrà respirare l'aria che aveva la corte nel 1400 quindi ci saranno i mestieri di corte ci saranno i cortigiani ci saranno i signori ci saranno i musici adesso per dirne uno abbiamo chiamato un gruppo che ha vinto un premio secondo in italia di musica medievale che alliterà tutto questo quadro e logicamente poi il percorso proseguirà anche all'esterno nei giardini lopardi sarà un percorso e all'interno di questo percorso sarà possibile per chi vuole e lo consiglio proprio per quello che dicevo prima anche di entrare anche all'interno del museo acquistando il proprio biglietto e entrare anche all'interno del nostro museo e all'interno come sapete costruita anche il farsetto di pandolfo terzo che è un reperto molto molto importante per la nostra città ma anche per tanti rievocatori dico questo aneddoto per dirne uno è giusto per declinarlo tutti gli anni c'è una fiera importante a piacenza di tutta la rivocazione storica è una sarta cicloslovacca ricostruito un giorno passiamo lì in questo qui e vediamo esposto il farsetto di pandolfo terzo quindi per capire cosa noi affano abbiamo che magari non non ce ne rendiamo conto ma questo ritrovamento ha creato una bella scoperta sia nel mondo di ricostruzione storica ma anche nel mondo proprio della rievocazione quindi ve lo consiglio anche di fare da fanieri se qualcuno non c'è mai stato un bel giro all'interno del nostro museo che è molto bello quindi questo è un progetto quindi dalle 19 di sera alle ore 23 si può tracce all'interno della corte malatestiana che prenderà vita in questa ricostruzione storica all'esterno in piazza 20 settembre quindi finalmente arriviamo in piazza dopo questo lungo percorso ci saranno due serate di spettacoli partiremo sempre dall'idea che è quella del paglio delle contrade in versione centro storico cioè partendo dal fulcro del matrimonio di pandolfo terzo creeremo due serate in onore del signore che si è appena sposato quindi il matrimonio in sé per sé non andremo a rievocare perché col covid è molto difficile ma costruiremo questi spettacoli dall'ora 21 in poi dove praticamente si rivivrà e saranno tanti artisti che con noi collaboreranno che abbiamo invitato e sono felici di far parte del nostro progetto come fare a vedere lo spettacolo è molto facile basta si sarà basta andare nel nostro sito www.pagliodelecontradefano.it lì c'è un link ed è possibile prendere il proprio biglietto gratuito per entrare nell'arena contingentata dove è possibile sedersi e per poter vedere il proprio spettacolo quindi dal sito si prenota il biglietto e poi si viene e si entra logicamente per tutte le persone che non potranno partecipare ed entrare nell'arena comunque anche fuori dall'arena si riesce a vedere ma vi consiglio di prendere contatto con le attività della piazza e magari prenotare il tavolo per poter assistere allo spettacolo tra l'altro se alla corte malatestiana entreremo proprio nella corte di Pandolfo Malatesta la Pandolfaccia quest'anno tanto per ricollegarci a qualche puntata fa ha ricreato un'altra corte perché siete protagonisti come Pandolfaccia anche ad impronte femminili sì sì ci ha chiamato l'assessorato perché questo progetto che si chiama il concerto segreto delle dame il periodo è successivo però si svolge all'interno della corte malatestiana quindi aveva bisogno di un'ambientazione di una rafforzatura all'interno dello spettacolo e quindi abbiamo deciso perché no proprio perché racconta una parte medievale o più rinascimentale di inserirlo all'interno di promuoverlo all'interno del nostro programma quindi il 16 anche questo programma fa parte come promozione del nostro programma e noi ne facciamo parte e ne facciamo parte con i nostri spettacoli con i nostri danzatori che hanno studiato delle danze successive proprio per far parte di questo spettacolo allora prenderanno parte anche le contrade quindi ognuna con il proprio colore il proprio simbolo che le caratterizza e quindi diciamo che siamo fedeli un po' alla tradizione anche se in questa veste riadattata sì, avremmo voluto riprendere i giochi, avremmo voluto riprendere le sfide ma purtroppo non ci è permesso o sicuramente molto difficile ma abbiamo chiesto comunque alle contrade di colorare la città con i loro colori magari di fare una passeggiata in costume di fare comunque di far respirare quest'aria, di far respirare questi colori alla città che sono i colori tipici nella speranza prossimo anno di poter riprendere tutti quanto, tutte quelle che sono le sfide togliere il cartello serate medievali, far diventare proprio centrale il tema, il palio delle contrade Sarà sicuramente così, l'importante è che non manchi mai questa voglia di fare di ripartire, di ricominciare e di coinvolgere comunque un pubblico attento alle norme anti-covid perché è così insomma che ci si muoverà con la voglia comunque di stare insieme di aggregazione, di un momento culturale ma allo stesso tempo come ho già detto folcloristico nel senso più bello del termine e anche di divertimento Allora dobbiamo fare dei ringraziamenti perché insomma la Pandolfaccia comprende tante personalità che si adoperano Sì, dobbiamo ringraziare sicuramente il Comune di Fano, la Regione Marche e dobbiamo ringraziare tutti quelli che in questo progetto credono dobbiamo ringraziare gli sponsor che ci danno sostegno nell'attività e dobbiamo ringraziare tutti quelli che in questi anni ci hanno fatto sempre sentire il loro calore e il loro sostegno nella manifestazione quindi io dico sempre, lasciatemi passare questo termine non guardateci con gli occhi di altre manifestazioni ma guardateci con gli occhi dell'originalità del Palio delle Contrade perché comunque è una cosa per la nostra città originale è una cosa in cui cento persone che sono da nostre tesserate ci lavorano di tanto quindi penso a tutte le prove, penso a tutto l'impegno dei ragazzi perché tutto quello che noi portiamo fuori e anche, solitamente siete abituati a vedere me perché sono il portavoce, che sono il presidente ma come dico sempre, se non avessi dietro cento persone che ogni giorno si impegnano a portare avanti con passione tutto quello che noi portiamo fuori il Palio delle Contrade non esisterebbe tutto questo ringraziamento anche se due anni di stand by va dato alle Contrade che comunque sono sempre pronte a mettersi in gioco in sfida proprio per questa manifestazione e quello che vorrei anche dire è un grazie alla città che inizia ad apprezzare questo periodo storico penso che se fossimo attenti a quello che abbiamo lasciami passare questa... se fossimo attenti abbiamo un tesoro abbiamo un tesoro e non è il tesoro della pandolfaccia ma è il tesoro della città dobbiamo essere bravi come città a far capire al mondo che noi abbiamo questo tesoro e se ne fossimo capaci avremmo fatto molti passi avanti lasciami anche dire che questo tesoro non mette in buio altri tesori che abbiamo quando uno ha una cosa importante deve essere bravo a metterli insieme a tutte le cose importanti e promuoverlo quindi dobbiamo essere bravi ad aprire bene gli occhi noi come Pandolfaccio logicamente puntiamo su questo perché è la nostra missione quindi l'invito che faccio ai fanesi è ad alzare un po' lo sguardo anche sul periodo medievale su tanta bellezza che anche il medioevo e la storia malatestiana ha lasciato nella nostra città grazie Fabio perché con la tua semplicità e con la tua voglia di fare contagiosa come dire riesci a coinvolgere tutti quanti perché si sente, si vede che ci credi e questa tua volontà comunque di fare e di proporre trapela io penso che sia una cosa buona insomma per tutti quanti io ti ringrazio logicamente come ed è quello che penso quando tu ringrazia me i ringraziamenti come dicevo prima vanno tutti quelli che sono dietro di me sicuramente perché io sono soltanto uno che chiacchiera la passione che trappelo è la passione di un innamorato di una persona che ha scoperto alcune cose che magari ci è cresciuto nell'ambiente pandolfaccia quindi quella passione delle armi di sputare il fuoco, dello sbandierare e di fare alcune cose e poi sono stato portato a studiare a vedere alcune cose della nostra città che mi hanno portato a dire ma cacchio questa cosa va raccontata questa cosa va raccontata alla città perché se non ce ne accorgiamo e quindi questo amore per questa cosa ancora non mi farà segnare poi dopo spero che chi verrà dopo di me perché tanto spero anche che qualcuno verrà dopo di me anche nella mia associazione abbia la forza di poter sempre avere questo forte obiettivo che è quello della storia medievale della nostra città che ci lega tanto con la Romagna che ci lega tanto per molti tratti che noi abbiamo anche storici ci lega tanto con tante cose che dobbiamo assolutamente come città riscoprire ripeto non nasconde niente di tutto quello che già siamo ma non toglie niente a tutto quello che già siamo ma dobbiamo essere capaci di averlo come DNA quindi stiamo faticando tanto noi come associazione ma non smetteremo mai scusa se ripeto sempre la stessa cosa ma per me è forse un chiodo fisso e anche per i miei associati è la forza dell'impegno sicuramente il palio delle contrade le serate medievali 17-18 luglio piazza 20 settembre corte malatessiana prenotazione obbligatoria live ticket.it giusto quindi da quando possiamo iniziare a prenotarci? dall'inizio della settimana quindi dal 10 luglio sarà possibile prenotarsi e accedere alla piattaforma per prenotare bene io ringrazio Fabio Fratesi e tutta la pandolfaccia grazie mille grazie invito tutti gli amici di Fano TV a partecipare ringrazio Riccardo Sora in regia a tutti voi per l'attenzione buon proseguimento grazie mille grazie a tutti Grazie a tutti.